Sì, soddisfatti per questo risultato, i ragazzi se lo meritavano perché stanno avvolando tanto e abbiamo passato un periodo non facile per via dei tanti infortuni che abbiamo avuto. Oggi, a parte Malvestio, avevo tutto a disposizione e penso che si sia visto e i ragazzi hanno dato una grande prova. All'anno in prospettiva sappiamo che questo è un campionato molto difficile quindi ogni partita fa storia a sé, domenica già andiamo a affrontare la Sestese che comunque è un organico importante per la categoria e dobbiamo andare avanti con questa voglia di lavorare in settimana e preparare al massimo quest'altra sfida che ci aspetterà.